Siamo in un vecchio centro sportivo a Mazzocco vicino a Mogliano e parlo piano perché in teoria ci dovrebbe vivere qualche barbone o roba del genere però non abbiamo nessuna informazione a riguardo perché l'abbiamo solo visto passando per strada e non sappiamo la sua storia e alle sue spalle c'è il Vaneland, ho già fatto un video sul Vaneland, ve lo lascio in descrizione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti